13 novembre 1969 circa 500.000 persone si radunano a Washington per manifestare contro la guerra del Vietnam il movimento pacifista protesta dopo la divulgazione di clamorose notizie riservate sul conflitto e all'indomani della scoperta del massacro di Milai alla manifestazione partecipa un movimento capace di attraversare trasversalmente tutta la nazione uomini bianchi e neri, ricchi e poveri grazie a tutti grazie a tutti